Le ricordo, Presidente, che il regolamento è più importante di una capigruppo e nessuna capigruppo può violare il regolamento. Questo è il concetto. Articolo 118. Non si può violare il regolamento. L'informativa non è un'informativa urgente, per cui il fatto che sia stato discusso durante una capigruppo non è più importante del regolamento stesso. Grazie.